Per Aaron Cristante, è soddisfazione ritornare al gol, mettere definitivamente alle spalle la partita di domenica scorsa e riprendere quello che è il proprio percorso? Sì, era il nostro obiettivo, noi lo sapevamo già che era un episodio singolo, però era importante farlo vedere a tutti e fino al primo minuto l'abbiamo fatto. Ecco, anche perché è vero che si giocava contro l'ultima in classifica, ma è anche vero che sono partite da non sottovalutare? Sicuramente, in Serie A non c'è mai una partita da sottovalutare, perché c'è sempre il rischio di fare figure, però siamo stati bravi dal primo minuto, siamo entrati con la testa giusta e fino al novantesimo abbiamo continuato. Una buona prestazione anche per Brian Cristante? Sì, sì, sono contento, sono contento della mia prestazione, ma soprattutto di quella della squadra. E adesso c'è una sosta per rifiatare e poi via il rush finale, le ultime nove finali. Sì, sì, c'è l'ultima pause e poi fino alla fine c'è, come hai detto tu, le nove finali che è importante, insomma, chi avrà più continuità e sarà più sul pezzo in tutte le nove le partite riuscirà a andare in Europa. Grazie. Grazie. Grazie.